Ucraina, la controfessiva di Kiev, conquista terreno a Zaporizh, attacchi in Crimea, droni su Mosca, mentre la morte di Prigoshin continua a restare avvolta nel mistero. Stupro di Napoli, le due cugine abusate dal branco, allontanate dalle proprie famiglie, secondo il PM sarebbero vittime di grave incuria da parte dei genitori, nel gruppo degli stupratori anche due figli di esponenti di spicco della camorra. Al via l'ultimo controesodo di quest'estate 2023, rientra dalle ferie sotto in maltempo perché vive al nord, con una raffica di rincari dai carburanti alla spesa fino alla scuola. Buongiorno dal TG2000, le forze di Kiev hanno dunque sfondato la prima linea di difesa russa nella regione di Zaporizhia, pioggia di droni, anche in Crimea, la cronaca di Francesco De Remigis. La controffensiva ucraina guadagna terreno nella regione occidentale di Zaporizhia, Kiev rivendica ad aver piantato la bandiera giallo-blu nella punta della Crimea, la penisola annessa da Mosca nel 2014. Si inizia a parlare di un'operazione di terra per riconquistarla e si intensificano pure gli assalti dal cielo. Le forze russe hanno abbattuto 42 droni ucraini. Kiev insomma prova ad alzare il tiro e con i droni prova a spingersi fin dentro i confini della federazione. Dalla Russia si fa sapere di averne abbattuti due, uno all'alba si stava avvicinando a Mosca, l'altro nella regione di Belgorod, dove secondo la federazione gli ucraini hanno lanciato anche granate nella città. Secondo la Gran Bretagna Putin si starebbe invece preparando ad avanzare nel nord-est dell'Ucraina, valutando la possibilità di arruolare altre 450.000 persone. Lo ZAR è però ancora alle prese col mistero Prigogini, il fondatore della brigata Wagner, dato per morto. Mosca nega coinvolgimenti diretti di Putin che firma un decreto per imporre alle formazioni paramilitari come la Wagner di giurare fedeltà allo Stato. Un braccio di ferro irrisolto complicato anche perché le scatole nere del jet precipitato con a bordo Prigogin sono state raccolte nei boschi e sequestrate dalle autorità. Ordigno a bordo, aereo abbattuto, guasto messo in scena, anche il presidente bielorusso Lukashenko oggi scende in campo per difendere Putin dalle accuse di aver ucciso Prigogin e ieri al Festival della gioventù cattolica in Russia, in corso a San Pietroburgo, in continuazione con la GMG di Lisbona, è intervenuto in video anche Papa Francesco. La vera diplomazia non ha paura dei conflitti, dice il pontefice, invitando a capire la posizione dell'altro e anche a limitare gli errori. La diplomazia è un'arte della convivenza, insiste, non serve a distruggere ma a costruire. L'emergenza attuale che vede nella guerra in Ucraina la sua punta dell'iceberg impone che il giornalismo compie un salto di qualità e non si faccia trascinare dalla cultura dell'odio, dalla coprofilia del gossip, lo ha detto Papa Francesco ricevendo in Vaticano poco fa una delegazione del premio. È giornalismo fondato nel 1995 da Montanelli, Biagi e Bocca. Il premio quest'anno è stato conferito proprio al pontefice consegnato in questa occasione. Qui capiamo che la pace è possibile, che un mondo di amore non è un sogno romantico ma una realtà che ci fa fare tante cose che nessuno pensava avrebbe fatto che ne fosse stato capace. Siamo tutti strani noi o è strano un mondo che non sa più che cosa vuol dire amare. L'ho detto ieri sera il cardinale Matteo Zuppi, il cardinale di Bologna e il presidente della CIA intervenendo a Padova nella Basilica di Sant'Antonio alla veglia di preghiera per la pace con circa mille giovani europei, tra cui 70 dall'Ucraina, promossa dalla comunità di Sant'Egidio tramite il Movimento Giovani per la Pace. La cronaca, sono state affidate una casa famiglia e le due cugine tredicenni violentate da un branco di adolescenti in un capannone al Parco Verde di Caivano a Napoli tra loro anche i figli di almeno due esponenti della Camorra. Elena Seno. Si allarga l'indagine sulla violenza sessuale di gruppo subita a luglio da due cuginette adolescenti al Parco Verde di Caivano. Non un singolo episodio, ma minacce per ottenere il silenzio e abusi proseguiti per mesi. Venuti a galla per un video circolato e finito sul cellulare del fratello di una delle piccole vittime. Così la famiglia avrebbe appreso dell'orrore, compiuto da una banda di ragazzini, tutti minorenni, tranne uno, un diciannovenne, che si trova in carcere. Il numero dei coinvolti potrebbe non essere solo di sei, come emerso in un primo momento. Si indaga su 15 giovanissimi. Tra loro trapela anche due figli di esponenti di spicco della criminalità organizzata locale. Parco Verde è ritenuta una delle più grandi piazze di spaccio d'Europa, un contesto dal quale ora le due ragazzine sono state allontanate, condotte in una casa famiglia per la loro sicurezza. Dalla relazione dei servizi sociali intervenuti emerge un contesto di degrado, una grave incuria da parte dei genitori. Qui è l'inferno, ha detto la madre di una delle vittime in un'intervista, chiedendo di riavere la figlia. E a proposito della diffusione di video, di abusi e violenze, è arrivata una stretta. Sono in vigore infatti le nuove norme dell'Unione Europea per la trasparenza del web. Cesare Cavoni. Vita dura per i leoni da tastiera. Oggi infatti entra in vigore il Digital Service Act dell'Unione Europea, che coinvolgerà tutte le società tecnologiche con più di 45 milioni di utenti. Disinformazione, controllo dei contenuti, moderazione, discorsi d'odio, istigazione alla violenza, tutto ciò sarà nel mirino delle autorità. È una piccola grande rivoluzione, visto che la norma precedente del 2000 era nata da considerazioni fatte a metà degli anni 90 e da tempo mal si applicavano al web delle piattaforme. Il nuovo regolamento verrà applicato in tutta l'Unione Europea ed è rivolto a tutti gli intermediari online, social network, motori di ricerca, marketplace, servizi di hosting. Una normativa insomma quanto mai attuale, specialmente dopo il susseguirsi di casi di violenza di genere online, come ad esempio lo stupro di gruppo di Palermo con le immagini che giravano in rete e con gli stupratori che il giorno dopo si vantavano sui social della bestiale notorietà acquisita. Le piattaforme che ancora restano da fare rispetto proprio al peso che hanno le piattaforme digitali nel creare purtroppo ambienti che molto spesso sono tossici e cercare di inserire anche delle definizioni che abbiano a che vedere con la violenza di genere online. Le piattaforme potranno sospendere gli utenti, avendoli prima avvisati e specificando in modo chiaro perché rischiano la sospensione. Non basterà più dire che si sono violati i termini e i condizioni in modo generico ma dovranno essere informati sulle ragioni per cui un posto è stato rimosso o ne sia stata limitata la visibilità o la monetizzazione. Continua la polemica con il governo sulle ricollocazioni dei migranti da parte di posizioni denti locali. Ancora sbarchi a Lampedusa dove nell'ultime 24 ore sono approdate 1800 persone in crisi. L'hot spot dell'isola dove sono presenti quasi 4000 migranti. Silvio Ciuffolini. Sbarchi senza precedenti a Lampedusa. Nelle ultime 24 ore sono approdati 63 barchini per un totale di oltre 1800 persone. Un record mai raggiunto prima. Nell'hot spot dell'isola al momento ci sono 4000 ospiti, 243 i minori non accompagnati. Una situazione emergenziale. La prefettura di Agrigento ha già disposto l'imbarco di 740 migranti sul traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle. Ma viste le condizioni meteo favorevoli tra oggi e domani si prevede l'arrivo di altri 2000 naufraghi. Non ci sono i traghetti di linea e pullman necessari per gli spostamenti di un numero così elevato di persone. Prefettura e Questura si stanno mobilitando perché vengano messe a disposizione navi e aerei militari. Intanto è attesa nelle prossime ore al porto di Augusta la nave Dattilo della Guardia Costiera con a bordo circa 700 migranti, mentre la nave Ocean Viking sbarcherà una parte dei 438 naufraghi soccorsi a Vibo Valencia per poi dirigersi verso Genova. E continua anche la polemica politica. La segretaria del PD Elislein torna a criticare il decreto Meloni. È un decreto disumano, dice. La solidarietà non è un reato. e chiede al Governo di convocare immediatamente i sindaci per una regia nazionale e un'accoglienza diffusa. Ma l'esecutivo si difende. Noi gli ingressi regolari li abbiamo aumentati. E questa mattina Cutro ha ricordato le vittime della strage che si è consumata in mare sei mesi fa. 94 lumini sono stati accesi sulla spiaggia. Tanti quante le vittime, tra le quali 35 minori. Fine settimana di controesodo per gli italiani in due giorni da volino rosso sulle strade con il meteo che promette pioggia, un brusco calo delle temperature. Le stime prevedono il transito di 11 milioni di veicoli. Allora per un aggiornamento della situazione ci colleghiamo con Daniele Garzia nella sala operativa di Anas. Buongiorno Daniele. Allora qual è la situazione in questo momento sulle strade? Sì, buongiorno dalla sala operativa Anas della Sardegna. È un fine settimana, come detto all'insegna del Comedo, per i rientri dalle località turistiche verso le grandi città. Anas prevede 11 milioni di auto in transito sulla propria rete stradale e autostradale con picchi di mezzo milione all'ora. All'omento il traffico è molto intenso, ma non si rende criticità. Il traffico di maggiore intensità è previsto sulla A2, autostrada del Mediterraneo, dove in direzione nord, lungo il tratto campano a Salerno, sono previsti picchi di 4 mila veicoli all'ora. Traffico in aumento in queste ore invece in Sicilia, sulla tangenziale ovest di Catania. Durante il weekend a crescere saranno, come detto, in particolare gli spostamenti brevi dalle località turistiche verso i centri urbani. Occhi puntati, in particolar modo sul grande raccordo annulare di Roma, nel Lazio interessate anche le statali Appia e Pontina. Il consiglio per chi si mette in viaggio è quello di evitare le distrazioni, soprattutto evitando l'uso del cellulare alla guida. Vi ricordo e chiudo che il servizio clienti pronto Anas è sempre raggiungibile gratuitamente al numero verde 800 841 148. Grazie, grazie allora Daniele Garzia della sala operativa di Anas. Parliamo di questo rientro segnato anche da pesanti rincari per le famiglie italiane, dalla spesa ai carburanti alla scuola, previsti per settembre incontri del governo con le diverse categorie per concordare un raffreddamento degli aumenti. Solo per alimentare i costi sono lievitati di 480 euro, ancora ai massimi la benzina che supera i 2 euro, in qualche caso sfiora i 2,8 euro al litro, aumenti nei trasporti dai voli ai traghetti, infine la scuola con un più 10% che peserà sulle famiglie per oltre 680 euro a figlio. Continua a diminuire il numero degli artigiani presenti in Italia che dal 2012 sono scesi di quasi 325 mila unità, pari almeno 17,4%, è l'allarme lanciato dalla CGA di Mestre in questi ultimi 10 anni solo nel 2021 la platea complessiva è aumentata, seppur di poco rispetto all'anno precedente, secondo gli ultimi dati resi disponibili dall'Inps, nel 2022 si contavano un milione e mezzo di artigiani. Tra le cause del crollo un insufficiente ricambio generazionale, la feroce concorrenza esercitata dalla grande distribuzione del commercio elettronico, il boom del costo degli affitti e delle tasse sulle partite IVA. Andiamo in Niger, all'estero, dove il regime militare golpista ha escluso, ha espulso gli ambasciatori di Francia, Germania, Nigeria e Stati Uniti. Pierluigi Vito. Una folla di uomini e donne si è radunata di fronte alla base militare francese di Niamey, con Vuvuzelas e cartelli. Vogliamo che queste forze d'occupazione se ne vadano, dice Issa con tono calmo e determinato. Non abbiamo bisogno di loro, non li vogliamo sulla nostra terra. Se non se ne andranno entro dieci giorni, gli fai quel più battagliero Ali, Noi penetreremo nella base. Certo ci saranno dei morti, ma l'unica cosa che conta è che se ne vadano. A un mese esatto dal colpo di Stato che ha deposto il presidente Basum, la tensione si fa sempre più alta in Niger. La giunta militare al potere ha deciso di espellere gli ambasciatori di Francia, Nigeria, Germania e Stati Uniti, concedendo loro 48 ore per lasciare il paese. Secca la risposta da Parigi. I golpisti del Niger non hanno l'autorità di intimare all'ambasciatore francese di andarsene. L'escalation anti-diplomazia arriva nei giorni in cui la direttrice generale USA per gli affari africani, Molly Fee, ha iniziato il suo tour in Nigeria, Chad e Ghana, per manifestare sostegno agli stati dell'Ekowas, la comunità economica degli stati dell'Africa occidentale, per rispondere alla crisi nigerina. Al lavoro anche il nostro ministro degli esteri italiani. Ieri l'incontro con il collega algerino Attaf nella ricerca di una soluzione politica e diplomatica. Se non verrà trovata, si rischia di scatenare una guerra regionale. I generali golpisti hanno fatto sapere di aver autorizzato gli eserciti di Burkina Faso e Mali a intervenire in Niger se il paese sarà attaccato. E parliamo ora di un evento che si celebra oggi in tutto il mondo, che festeggia i nostri miglior amici, infatti, la giornata internazionale del cane. Clara Iatosti. Il 26 agosto il mondo celebra l'amico più fedele dell'uomo. Citati nelle vite dei Santi, benedetti nel giorno di Sant'Antonio in chiesa, ricordati con San Rocco, festeggiati oggi Sant'Alessandro. Indimenticabile il primo sguardo, il primo incontro con i nostri cuccioli. Occhi buoni ed affettuosi che stregano e innamorano. In Italia sono oltre 10 milioni i cani che sono parte della nostra famiglia, anche se, purtroppo, quasi 70 mila vivono ancora nei circa mille canili italiani, che spesso hanno doppia funzione di rifugio e punto sanitario. La giornata internazionale del cane è stata istituita nel 2004, grazie alla giornalista statunitense Colin Page, esperta del mondo animale, che qualche anno prima aveva adottato il suo primo cucciolo e inaugurato così una nuova fase della sua vita, particolarmente felice proprio in questa giornata. Studi recenti confermano infatti che chi ha la fortuna di averne uno è in media un carattere più allegro, maggiore autostima ed è meno soggetto alla depressione. Perfetti con anziani e bambini, utilizzati per la pet therapy con i malati, ci difendono con coraggio e sono spesso protagonisti di salvataggi miracolosi. Per ricordarlo, oggi molti pubblicheranno sui social una foto del proprio amico a quattro zampe con l'hashtag giornata internazionale del cane, parlando in maniera netta di problemi come la piaga dell'abbandono durante le ferie estive. Tutti li ringrazieranno con coccole e buon cibo. Alla ricerca del padre, dopo la vittoria al festival di Giffoni, al cinema dal 7 settembre più bel secolo della mia vita, con Sergio Castellitto e Valerio Lundini. Fabio Falzone. Giovanni Lundini vuole sapere chi sono i suoi veri genitori. Gustavo Castellitto ha più di cent'anni e la sua testimonianza potrebbe cambiare. Una legge realmente esistente che ha toccato e tocca la vita di tante persone. Lei è stato abbandonato come me. Se una persona non sa da dove viene, è una persona incompleta. Nasce da un dato di cronaca questa commedia che è anche qualcosa in più. In Italia, oltre 400.000 persone non riconosciute alla nascita potranno scoprire, se lo vorranno, il vero nome dei loro genitori solo al compimento del centesimo anno di età. Mi va piano che questo è freddissimo. Il viaggio follemente divertente di Lundini e Castellitto punta proprio ad abbattere questa legge, almeno sullo schermo. Nel percorso, perché l'anziano possa portare la propria testimonianza davanti a un ministro, ne succederanno di tutti i colori. Un viaggio sorprendente anche per i protagonisti. Lo mettiamo un po' in mezzo a Lundini perché questa è la stessa un po' la scoperta di questo film. Lo promuoviamo? Io promuovo Sergio, ma lui ha detto che non c'è bisogno. Ha detto anche con un fare che si è sentito deriso, io pensavo di dirgli una cosa carina. Lui mi ha promosso più volte. E' bello trovarti. Sì, adesso noi stiamo lavorando a un seguito, infatti. Ah sì? Sì, cioè io appaio sotto forma di fantasma shakespeariano a un Giovanni Centenario. È un figlio di fantascienza. A Taormina, ora dove si è chiusa la tre giorni del Festival Lirico dei Teatri di Pietra di Siracusa, una manifestazione che offre eventi di contaminazione tra lirica e pop d'autore dai Pink Floyd alla Traviata ed è proprio il capolavoro di Giuseppe Verdi che ha avuto il compito di far calare Sipario sul Festival 2023. Vediamo. E tutto per ora, vi lascio al Meteo a Borghi d'Italia che oggi ci porta a Moltarzo sul lago di Como. Grazie per averci seguito. A più tardi. Grazie.